Eccoci qua con Giuseppe Viglianisi e Fabio Calabretta dopo la vittoria per 7 a 1 dei Canizzaro Ceramica e sui Marca Liotro. Intanto buonasera. 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 Allora partiamo con Giuseppe. Questo è il tuo esordio, una doppietta partita sotto la pioggia ma abbastanza facile. Sì, sì, ci siamo divertiti. Questo è l'importante. Poi la partita ha preso una piega giusta e l'importante è che abbiamo messo in cassaforte i tre punti. Sei tornato dopo l'anno scorso. Come hai ritrovato questo torneo? Sicuramente è un torneo in cui piace molto. È il torneo più in di Catania in questo momento, secondo me. È sempre un piacere giocare qui. Il livello delle squadre sarà sempre alto e le favorite sono sempre quelle. Ma qual è, secondo te, la squadra a battere? Forse gli sparchiosi, la tua ex? No, no, sicuramente. Anzi, colgo l'occasione per fare un augurio particolare ai miei amici con cui gioco tutto il periodo invernale. Poi la squadra più forte ce ne sono molte, come ogni anno. Anche se secondo me non basta essere la squadra più forte ma creare un gruppo coeso che poi forse vincerà come ogni anno. Va bene, grazie. Grazie a te. Allora, passiamo da Fabio. In operoso almeno vieni qua a fare l'intervista. Sì, almeno sto con gli amici, basta una bella giornata e ci divertiamo. Ti sei preso più pioggia che pallone. Oggi è una partita facile, eravate 6 contro 6, però non si sono visti molti tiri in porta dalle tue parti? No, abbiamo una partita tranquilla, però l'importante era vincere, quindi alla fine contava questo. Faccio la stessa domanda che ho fatto a Giuseppe. Qual è la squadra che sono andate a battere e chi è l'attaccante che più ti spaventa? No, non mi spaventa nessuno, onestamente, né squadre né attaccanti. Forse gli sparchiosi, così, una certa rivalità perché sono amici sempre nello spirito del gioco. Poi le altre non le conosco, onestamente. Quindi un cammino lungo, ma voi comunque puntate ovviamente a classificarvi per primi nel vostro girone? No, noi puntiamo a passare, poi l'importante è arrivare alle fasi finali. Non importa, primi, quarti, qualsiasi cosa. E lì ve la giocherete? Sì, sì. Va bene, grazie mille, ciao. Ciao. Ciao.